inizierò da questa puntata a parlarvi di quattro personaggi 5 per la verità 4 più 1 e poi capirete perché e vi parlo di questi personaggi e vi do un breve resoconto di chi sono della loro esistenza perché sono i quattro personaggi che caratterizzano in buona sostanza tutte le vicende attorno al monte bianco il bene nel male ma la caratterizzano in modo fondamentale e si tratta di personaggi molto diversi tra di loro ma ognuno dei quali ha un ruolo importante partirò da quello che ha il ruolo sicuramente più importante di tutti e su questo non ve non ve alcun dubbio sia per la fatto lì attorno il suo nome è oras benedique de saceau un ginevrino lui nasce a con un comune del comune di ginevra il 17 febbraio del 1740 nasce da una famiglia molto agiata ma che è profuga per motivi religiosi dalla regione francese della lorena quindi era dei francesi della lorena che per motivi religiosi sono dovuti scappare dalla francia e si sono sistemati a ginevra dove lui nasce appunto nel 1740 vi ricordate 1740 è la data dell'inizio dei primi approcci ed esploratori di lui è molto influenzato in particolare dallo zio materno charbonnet che sin dalla gioventù lo istiga e lo prepara gli insegna gli crea la strada per gli studi della botanica lui è una persona estremamente dinamica molto intelligente molto creativa a 19 anni chiude gli studi universitari tra l'altro discutendo la tesi su una di con una dissertazione sulla fisica del fuoco siamo nel 1760 capiamo bene di che cosa significava allora una cosa avvenieristica addirittura non solo ma proprio per le sue capacità per la sua intelligenza per di fatto si presipone come uno scienziato e tre anni dopo all'età di 22 anni gli viene data la cattedra di filosofia naturale presso il medesimo istituto in cui ha chiuso gli studi cioè l'accademia di ginevra ma all'età di 25 anni c'è un fatto personale estremamente importante cioè che sposa albertin boissier albertin boissier è lui la sposa i due sono molto innamorati che un matrimonio d'amore per l'epoca è un evento davvero straordinario perché di solito erano tutti i matrimoni combinati per ragioni o politiche o di denaro ad alti a bassi livelli in questo caso no in questo caso c'è un matrimonio d'amore ma dietro questo matrimonio d'amore c'è un dato di fatto e cioè che albertin è una importante ereditiera che automaticamente lui era già è di famiglia giata però automaticamente lo fa diventare l'uomo più ricco di ginevra in un istante e tuttavia suo zio dirà di lui che dirà benedicta due amanti la moglie la montagna che ama infinitamente non saprei dire quale delle due ama maggiormente pur essendo aristocratico dissassuerà opinioni estremamente liberali aristocratico lo è di derivazione e in particolare presenterà nel 1774 un piano per lo sviluppo dell'istruzione scientifica aperta a tutti i cittadini ovviamente la sua proposta presso a geneve college però questa poi politicamente non riuscirà a sfondare ad avere un sentimento nel 1784 è eletto socio straniero della reale accademia svedese di scienze nel 1787 diventa corrispondente dell'accademia de science de paris e della quale diventerà poi socio alcuni anni dopo e nel 1788 è membro straniero della royal society di londra questo ci dice di gran lunga la carattura scientifica del personaggio era famoso in tutta europa molto famoso in tutta europa allo scoppio della rivoluzione francese lui si trova alle falde del monte rosa a macugnaga per delle escursioni sulle montagne degli studi approfonditi su quell'area geografica lì accoglie con grande entusiasmo la notizia della rivoluzione francese rientra subito a ginevra si mette a disposizione da lì in avanti di tutti i governi che con alterne fortuna e si sono succeduti in quel difficile periodo del settecento il suo atteggiamento da quella da quella vicenda lì della dopo la rivoluzione francese cominciano anche le sue finanze a essere in difficoltà e si trova in estreme difficoltà finanziarie e però è proprio grazie alla sua il suo atteggiamento moderato il suo atteggiamento attento a questi aspetti che lo salverà dal periodo del terrore quando anche a ginevra la gente andava per le case il popolo andava per le case a menar a menar duro ma rispetterà sia lui che tutta la famiglia che la sua abitazione come significativo del rispetto che aveva anche all'interno della società e della conoscenza che aveva nella società nel 1794 lo si trova minato nelle salute e nelle finanze si ritira nella sua casa di campagna natia di conoscenza come abbiamo detto nei pressi di ginevra ma si sparge la voce un po in tutto il mondo scientifico in tutte le realtà in tutto il mondo che ora sbendete di sassura in grandi difficoltà e addirittura il presidente americano jefferson gli prospetta una cattedra presso l'università di charlotteville in virginia quindi era già famoso anche anche in america ma non farà in tempo a dare una risposta a questa proposta il 22 gennaio di 1799 muore e fu sepolto al cimitero di pampley con tutti gli onori del caso cui si deve un grande personaggio di questo eccetera per le nostre montagne noi parleremo e ci ricorderemo di lui di quattro volumi raccoglie tutto il suo lavoro scientifico di scoperta di esplorazione di salite in quattro volumi dal titolo volage dans les alpes quattro volumi che quando sarò ricco li prenderò nella prima edizione originale che che è disponibile ma che richiede troppo denaro per essere acquistata per la mia biblioteca ma che quattro volumi che fanno in modo che si sviluppi poi tutto un'attenzione anche turistica all'interno dell'area geografica comprensiva tra sciamoni e zarmat ma bisogna dire che attenzione questi volumi non è che siano così diffusi costano sono di un certo livello sono anche di un certo peso scientifico e quindi è anzitutto nella comunità culturale scientifica dell'epoca che hanno un notevole accesso nel 1760 quindi lui a 40 anni sostanzialmente si innamora pazzamente del monte bianco lui lo vede salendo le sue colline sopra ginevra fa alcune gite lì e per promette una ricompensa a chiunque riuscirà per primo a trovare una via per raggiungere la cima lo fa fa appendere in tutte le parrocchie della vallate questo avviso cercando di stimolare in questo modo la conquista la salita del monte bianco monte bianco che lui riuscirà a salire nel 1787 un anno dopo la prima salita assoluta e compiendo nella terza salita generale nel 1789 tra l'altro due anni dopo e attorno al monte rosa sale il pizzo bianco passa per alagna valsiesa gerson esce un po luca attraversa la prima volta il colle del teodulo arriva a zermat esplora tutte le zone quindi si dedica molto alla montagna e all'alpinismo sassura ha condotto degli studi veramente importanti sul clima sulle sulle misurazioni delle montagne sullo sviluppo degli acciaio delle alpi è quasi ossessionato dei fenomeni meteorologici inventa molti tipi di apparecchi ha inventato il magnetometro il cianometro che è per misurare e stimare l'azzurro del cielo il diafanometro per giudicare la chiarezza e trasparenza dell'atmosfera l'anemometro e anche altri strumenti importanti tra i quali un igrometro a capelli che ha ideato utilizzato per una serie di indagini sulle sulle sull'evaporazione sull'umidità sulle nuvole sulle sulla pioggia per darci e parlo del finale per darci la dimensione dell'importanza scientifica del personaggio ricorderemo che è un entusiasta sostenitore dei fratelli mongolfier non solo ma è il primo che è riuscito a determinare che prodigioso sollevarsi dei palloni aerostatici non era dovuto alla proprietà dei fumi che li riempivano cosa che si pensava all'epoca ma la diversa densità dell'aria calda rispetto a quella fredda non aveva scoperto l'acqua calda ma aveva scoperto qualcosa di veramente importante e questo era ora benedicto di sasso grazie grazie